Buongiorno, sono Marco Fiorvanti della ditta Revat, volevo presentare l'azienda, la Revat, che appunto è l'azienda che coordino e che dal 2007 realizza e progetta con personale proprio impianti fotovoltaici. Siamo partiti appunto qualche anno fa senza conoscere il mestiere, quindi partendo studiando il funzionamento degli impianti fotovoltaici e tutto il contesto normativo di contorno. Da allora ad oggi abbiamo realizzato circa 350 impianti per una potenza complessiva di 2,7 MW, li abbiamo fatti su utenze domestiche fino e poi all'industriale con casi di impianti da 150 a 200 KW, quindi territorialmente molto radicati. Più recentemente abbiamo deciso di investire risorse nell'ambito dell'efficienza energetica, delle manutenzioni di impianti, acquistando strumenti come appunto la termocamera per fare analisi del funzionamento dei moduli fotovoltaici piuttosto che di edifici per i quali appunto prevediamo un percorso di efficientamento energetico. Questo riteniamo che nel futuro sia un'industria sicuramente in crescita e che dividerà sempre più importante. Abbiamo anche sviluppato una collaborazione con una società che ha messo in campo una barca solare che ha vinto anche delle manifestazioni, la barca Lilia, che tra l'altro è presente qui alla Fiera di Dalmine, che ha vinto una competizione a Davigliana, quindi insomma una serie di attività che penso che ci permettono di dire che da un punto di vista di territorio della Bergamasca quantomeno Revat oggi sia una delle società più affermate e considerate tra le più affidabili.